Salve sono Urbano della Salli Moreno con Svaghiauni di Fucetti. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco per Tudusate. Si tratta di questa bella Kia Rio ed è un 1200 benzina GPL quindi con impianto GPL originale dalla casa e ve lo faremo vedere nelle prossime immagini dell'anno 2014, specificatamente dicembre. È una vettura che può essere guidata dai ragazzi e ragazze neopatentate quindi un'ottima vettura moderna ed economica nei consumi per incominciare a guidare. Da queste immagini vi facciamo già comunque vedere lo stato d'uso della carrozzeria esterna che si presenta sempre in un modo veramente eccellente, qualche piccolezza da macchina usata come si usa dire però molto molto presentabile, sempre bella e con questa verniciatura bianca sempre bella e brillante. passiamo a vedere anche i particolari della vettura. Intanto il nostro vano bagagli anche questo bellino spazioso pulito con il sedile posteriore sdoppiato. Questa è la bombola del GPL che tra l'altro essendo del 2014 la vettura ha il collaudo valido fino sempre a dicembre 2024 perché la bombola del GPL è valida è valida 10 anni quindi abbondantemente ancora circa 4 anni di validità prima di rifare il collaudo. passiamo a vedere anche la specifica degli interni, gli interruttori dei due vetri elettrici anteriori e l'interruttore per la regolazione degli specchietti elettrici sempre anteriori. Una panoramica al cruscotto e dopo vedremo anche qua lo specifico e poi una panoramica alla tappezzeria che si presenta sempre in un modo veramente eccellente, bella e pulita, igienizzata anche a vapore con questa lavorazione specifica. il risultato quindi è l'avere la tappezzeria veramente bella e pulita quindi un'accoglienza all'interno della vettura veramente ottima. E adesso andiamo a vedere nello specifico gli accessori che ha questa vettura. Partiamo dal chilometraggio, solamente 81 mila chilometri. Naturalmente il precedente proprietario ha fatto tutti i suoi tagliandi quindi una macchina veramente controllata anche sotto il profilo meccanico. Volante multifunzione dove abbiamo gli interruttori a sinistra per la regolazione dello stereo. A destra per cercare sempre le stazioni dello stereo. Centralmente il display dell'autoradio con il suo cd, il menu per cercare le nostre stazioni e eccolo anche qua, climatizzatore manuale e gli interruttori anche per accendere o spengere il climatizzatore con il riciclo dell'aria. cambia 5 marce mentre più in basso abbiamo il display per capire la capacità dell'impianto a gpl e le sue presettine usb e per caricare il nostro cellulare. Quindi una vettura anche sotto questo punto di vista veramente completo, pronta per partire ed essere sfruttata. Altri particolari sempre per vedere le cose, i pneumatici sono estivi sempre a un buon 60 per cento di battistrada quindi possono essere ancora sfruttati per molti chilometri. Ultimo tagliando effettuato. Naturalmente le nostre vetture vetture, prima di essere messe in vendita, vengono controllate presso il nostro service come? Seguendo una checklist multicontrollo e sono praticamente 110 punti da verificare punto a punto per far sì che la macchina venga consegnata con tutti i suoi particolari funzionamenti. Dopodiché ci viene abbinato per legge 12 mesi di garanzia con la possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità di pagamenti rateali a tassi agevolati con più soluzioni che vi saranno spiegati in serie. Dopo queste spiegazioni e questa presentazione passiamo a un giro di prova su strada e adesso salite in macchina insieme a me a fare il giro di prova. Nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo è la pulizia e quindi l'accoglienza del nostro abitacolo. A cosa serve il giro di prova? Serve a capire il buon funzionamento della vettura, in questo caso il cambio, frizione, scatola di guida, se la macchina va dritta su strada, lavoro delle sospensioni. Incominciamo. Da questi primi metri io che sto guidando mi viene da notare che frizione bella morbida, cambio anche questo morbido e preciso negli innesti, la vettura va veramente dritta su strada quindi anche assetto e convergenza sono ottimi. La scatola di sterzo in questi incroci dove la dobbiamo girare parecchio, quindi sollecitare, la sento molto precisa, senza giochi, di conseguenza è una sicurezza di guida su strada. Andiamo a capire ora il lavoro delle nostre sospensioni nella classica strada con le buche. Sentiamo sì il loro lavoro, le sollecitazioni, ma non ci sono rumori anomali, quindi il tutto viene assorbito molto bene. Tutti i suoi componenti funzionanti perché come vi dicevo prima abbiamo la nostra checklist di controllo, quindi una macchina ancora sicura e tutta da sfruttare. Un'altra cosa importante, se abitate lontano dal nostro punto vendita possiamo prendere anche un appuntamento telefonico e con una videochiamata tramite whatsapp, presentarvi e spiegarvi ogni punto della vettura tutto in diretta, farvi vedere pregi, difetti, qualità e quindi quando deciderete di venire di persona non avere nessun tipo di sorpresa. Sapete già di che macchina stiamo parlando e com'è messa. Dopo aver constatato che la vettura va molto bene su strada, non ha rumori anomali, si comporta in modo veramente buono, torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo, cosa che non diciamo nel video perché non ci sembra giusto. Quindi andate su autosani.it. Seguiteci poi tra l'altro anche sui social Facebook, Instagram al nostro indirizzo sanimoreno.srl dove troverete tutte le informazioni e la presentazione dei prodotti che trattiamo Volkswagen e Audi, tutte le nostre ultime novità. Visitatelo anche quello perché è molto bello e dettagliato. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspettiamo quindi presso il nostro punto vendita di Fucetti naturalmente in tutta sicurezza oppure a telefonare ai nostri numeri vi saranno date tutte le spiegazioni che desiderate. Vi ringrazio ancora e a questo punto come diciamo sempre alla prossima vettura. Grazie.